Ringraziamo tutto lo staff che sta in cucina qua, io e Lozio Carlo abbiamo vinto il piatto di usare il fagiolo questa notte e poi ha toccato, hanno però... Eh, concordo con il nostro Fabio E approfitto di una pubblicità occulta, l'agenzia viaggi sono andata Sono andata, sì sì, bene bene Ecco, ecco, il nostro dirigente Fabio Angelucci Mentre si annunciava l'onoranza, ho visto che uno si è dato una rattacca, mi sembra che si è scortegata E il vicepresidente Zio Carlo Grazie Lo staff, lo staff che sarebbe lo zoppolo duro di questa società Giacinto proprio, non ci si caca Tali collaboratori, Giacinto Appetito Ecco, la new entry, Giovanni la new entry Un applauso a Giovanni La signora della pasta Antonella Lo spillatore d'eccezione Bruno Alla cottura delle salsicce o dog Michaele Il trasporto camion Massimo Il joker, il joker Giacinto, duttile Si presta a qualsiasi mansione Daniela Daniela La nostra barista che ha più belle spalle Eeeh 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 Ecco, ora ci siamo tutti Giacinto Giacinto Il dirigente Fabio Angelucci che ci aiuta a fare un factatum Non per fare pubblicità ma questo sangue e pagione è buona lavorina E' vero, è vero Gianni Ok Buona lavorina Ah Gianni, eccolo Gianni Allora buon appetito Allora buon appetito Buon appetito dal zio Carlo Bruno Una be- Eh? Grazie mille Di niente Sei il migliore Vuoi dire qualcuno che sta fuori all'estero Buon appetito Buon appetito Ciao, ciao La cassiera La cassiera Ecco la cassiera La nostra Milli Anche l'autorizzo a pubblicare questo video Buon applauso Ah? Questo? Non lo puoi pubblicare Ti mette quello delle carcerate in pace